Tutti contro Filippo Basso. Si può sintetizzare così la seduta monotematica del Consiglio regionale sul riordino del sistema sanitario. In particolare, maggioranza e opposizione hanno contestato il piano proposto dal Commissario per quanto riguarda la distribuzione dei posti letto, la sostanziale eliminazione degli ospedali minori e la penalizzazione delle strutture pubbliche a vantaggio di quelle private. La minoranza ha anche contestato la gestione della sanità negli ultimi dieci anni, puntando il dito contro sprechi, clientelismi, rottamazione dei primari costata 11 milioni di euro e contro l'istituto del comando di personale proveniente da altre regioni, ma alla fine ha dato la sua disponibilità ad approvare un documento congiunto per bocciare il piano di Filippo Basso e approvare quello elaborato dalla Quarta Commissione, solo che all'atto della votazione ha cambiato idea e la decisione finale è stata assunta solo dalla assoranza con l'assenzione dei sei consiglieri del centro-sinistra presenti in aula. Intanto tra i banchi di Palazzo Moffa è rientrato Massimiliano Scarabeo che ha preso il posto del dimissionario Polo Frattura e si è subito iscritto al gruppo del PD. Io ho avuto un incontro la scorsa settimana con la mia base, con il mio gruppo politico, sono stati loro a spingermi al fine di accettare la surroga in consiglio regionale. Ma lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni. Io guardo il centro-sinistra nella sua piena interezza, cercando anche di andare un po' oltre. Se questo è possibile sono a disposizione, se non dovesse essere possibile metteremo insieme tutta una serie di azioni ed elementi di proposizione che possano far andare il centro-sinistra e quello che è oltre il centro-sinistra verso una vittoria ed è la vittoria che vogliono i cittadini molisani. Paolo Frattura può essere il candidato presidente? Ma Paolo Frattura potrebbe essere il candidato presidente, qui bisogna vedere quali sono gli elementi che riescono a mettere insieme tutta una serie di mondi sia del vecchio centro-sinistra e di quello che potrebbe andare oltre il centro-sinistra. Il candidato naturale della nostra coalizione deve essere quel candidato che riesce a mettere un po' tutti quanti insieme. Grazie. Grazie. Grazie.